Un incendio di Manpato intorno alle 13 di oggi, venerdì 29 dicembre, al pian terreno di un'abitazione situata in Vicolo Rossini a Bosco Nero. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco tra Bosco Nero, Volpiano, Rivarolo, Torino e Carrofiamma. Il rogo ha completamente devastato la zona living e i Vigili del Fuoco sono intervenuti in tempo per evitare che le fiamme si propagassero anche al primo piano. Deceduto purtroppo il cagnolino della famiglia che si trovava nella stanza ed è rimasto intrappolato vicino alla porta. Sul posto è intervenuta anche la Croce Rossa che ha effettuato accertamenti sulla proprietaria, indagini in corso sulle cause. Con ogni probabilità il pian terreno verrà dichiarato inagibile in quanto le fiamme hanno divorato tutto. Grazie a tutti.